Salve, sono Angela, la cuoca dell'Asilo Claudio Domino. Oggi prepareremo un rollò di tritato di pollo. Gli ingredienti sono panca al re con acqua, il risultato è questo. Sale, mollica quanto basta, parmigiano quanto basta, cipolla quanto basta, uovo in base al peso quanto basta e un pizzico di olio. Andiamo a mangiamare il tutto. Questo è l'impasto. Adesso noi andiamo a formare un rollò di pollo. Andiamo ad avvolgere. Adesso andiamo ad ottenere il frettato di pollo. L'abbiamo già un po' di mollica. Dopo di ciò, lo rifiudiamo nella carta forno. Bello come una caramella, lo rifiudiamo. Ed è pronto per infornarlo. Poi il piatto completato. Un rollò di pollo con purè di spinaci e carote. Arrivederci, alla prossima. Grazie a tutti.